Ed è una storia d'amore sulla forza di questo sentimento così grande e così misterioso, sull'amore che non conosce ostacoli di nessuna natura. La corrispondenza è una storia totalmente diversa dalla migliore offerta, però io credo che abbia dei fili rossi che legano le due storie, ad eccezione di due sequenze. Lui è presente nella vita di lei sempre attraverso messaggi, lettere, video messaggi, mail, e Jeremy Irons è stato straordinario nella sua performance. Ha fatto nascere momenti di grande vibrazione anche sul set, è stata un'esperienza molto bella, anche molto singolare. Poi arriva un momento in cui avverti immediatamente che l'attrice che stai incontrando è il personaggio che stai cercando. Questo succede quando accade bellissimo ed è accaduto con Olga Kurilenko.